ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi farò vedere questo pacco qua fantastico della de agostini che mi è arrivata un po di tempo fa ed è di kit ragazzi quindi un mesetto fa circa ma adesso lo devo ordinare un altro comunque abbiamo i numeri di kit quindi questo lunedì come ogni lunedì io faccio vedere una uscita del video montaggio ma questo lunedì è speciale perché c'è solo l'unboxing quindi non farò il video montaggio lo farò al prossimo lunedì della uscita numero 30 e sono 3 dalla 30 alla 33 che c'è chiara quindi questo è il sotto il tubo di scappamento quindi lo so già vedete quindi qua ci sono i cavi tutti che vedremo in futuro adesso ve li metto meglio e li vediamo meglio nel dettaglio questo è molto è lungherone vedete come abbiamo montato che cosa avevamo montato con il lungherone non mi ricordo questi sono i fascicoli quindi spostiamo il cartone che non ci serve il cartone sulla pubblicità questi sono i fascicoli quindi abbiamo 33 32 31 e 30 e ragazzi si aggiungerà un numero in più e non so da che invio da che invio comunque mi informerò un pochino prima vi informerò e quindi non si spenderà più 47 euro e 50 al mese ma di più 56 euro si arriva ok perché si aggiunge un'uscita in più quindi si finisce più in fretta hanno fatto questa cosa qua secondo me è un po sbagliata però va va anche perché si spende un pochino di più quindi pensateci bene ormai non si può più fare l'abbonamento ma pensateci bene di fare questo modellino qua perché si spende veramente una cifra esorbitante e soprattutto adesso che si aggiunge un'uscita in più quindi pensateci questa è l'uscita numero 30 vedete come vi ho detto il lungherone non mi ricordo più che uscita avevo fatto con il lungherone domani ci sarà la live oggi stasera ci sarà la live perché io lo caricherò lunedì ma lo sto facendo adesso che è un altro giorno il 31 ok quindi ci sono tutti i passi di plastica del 31 con i cavi rispettivi cavi di kit sempre uno spettacolo gioiellino di macchina e il 32 comunque ragazzi vi volevo dire che non ho molti pacchi devo aspettare ironman che mi si è spaccato un'uscita comunque vi dirò tutto nel video tutorial se mi arriva mi arriva lunedì o martedì circa il passo e che avevo spaccato ho già richiesto la dei golsini se me lo ridanno indietro se me lo danno aggiustato e vi spiegherò cos'è successo tutto quanto e quindi non ho molti video da fare quindi vedrete un video al giorno che toglie il medico di tonno no sto scherzando ragazzi e comunque si c'è rispetto a prima ne farò uno al giorno non due o tre a volte li faccio uno sbandano e questo numero 33 però anche minerali e gemme anche dei lego quindi oltre i due lego ragazzi non vi posso dire ancora molto vi ho già detto troppo e dei gameplay come vi ho detto che ve lo dico adesso sono anche dei video giochi quindi se il video vi è piaciuto mettete un like mi piace al video e all'unboxing iscrivetevi al mio canale commentate e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video sennò non le vedete non vedete più i miei video tranne i short che non so perché non si mettono le non si ci mettono le notifiche quindi mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video di kit che sarà il prossimo lunedì con il video montaggio questo lunedì l'unboxing ok che sia chiaro quindi monteremo il numero 30 che non sembra difficile affatto però non lo so magari l'apparenza inganna si dice noi ci vediamo lunedì prossimo con kit con l'uscita numero 30 ciao tutti ciao